Un caro saluto da Maria Giuliacci e gli amici di Vivere Pesaro. Bene, siamo qui per dirvi non solo il tempo in questa settimana, ma anche il tempo più probabile per Natale e Santo Stefano. Bene, diciamo che il freddo in atto sull'Italia, quindi anche sulla provincia di Pesaro, seguita fino a venerdì di questa settimana, con temperature massime sotto 10 gradi e con gelate notturne nelle zone interne della provincia. Poi sabato e domenica e anche lunedì le temperature saranno in rialzo, ma sempre sul valore diciamo più di freddo che di temperature miti. Per quanto riguarda il tempo in generale, fenomeni, piove o non piove, nevica o non nevica, brutte notizie, nel senso che arriva l'anticicolone dell'Azorre, si sa che porta bel tempo, si sa che quindi non ci saranno piogge, ma se non ci saranno piogge non ci saranno nemmeno nevicate e questa doveva essere invece nelle aspettative, diciamo la settimana in cui la neve doveva arrivare sulle Alpi in maniera tale che per gli appassionati di sci erano goduria in questa diciamo parentesi festiva del Natale, del Capodanno per andare a scierare sulle Alpi. Mi dispiace ma io sono ambasciatore, non porta pena. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.